A partire dal 1 settembre, nelle ore notturne, la postazione del 118 di Montenero di Bisaccia non avrà un medico a bordo, ma solo un autista e un infermiere. Il problema della carenza di personale medico, che l'ospedale Santimotio conosce bene e con il quale è costretto a fare i conti tutti i giorni, si ripercuote in maniera inevitabile anche sui servizi di medicina territoriale. La situazione di Montenero di Bisaccia, però, è simile a tante altre in Italia, a causa dei tagli fatti alle postazioni del 118. L'assenza di un medico di notte a bordo dell'ambulanza preoccupa e amareggia il sindaco Simona Contucci. Il 118 di Montenero copre una vasta area, la costa, lo svincolo dell'autostrada, una parte della Trignina, senza contare le aree interne, ha detto la Contucci. Insieme ad altri sindaci del territorio abbiamo interpellato il presidente della regione Francesco Roberti, aggiunto, che sta facendo le sue verifiche, ma queste sono decisioni che dipendono dalla struttura commissariale. Sulla vicenda è intervenuto anche l'avvocato Vincenzo Iacovino, che ha detto «Nei codici di intervento più gravi potrà intervenire la prima ambulanza medicalizzata utile per Tavenna, Mafalda, Petacciato e Montenero, che potrà essere quella di Termoli, che già opera per la città adriatica, Guglionesi, San Giacomo, Portocannone e Campomarino. Adesso cercate di non stare male, aggiunto, e fornitevi un manuale di primo soccorso, così magari vi confrontate adeguatamente con l'infermiere sul da farsi».